Wuuu! Vi presento gli Zim, gli istruttori di Zumba del Coiva. Wuuu! Allori! La morghe! Tanto! Tino! Betta! No! Io sono ora! Allora, per chi non lo sapesse, la Zumba è una forma di fitness. Una forma di fitness camuffata in una danza, quindi è un sistema per mettersi in forma divirtendosi un sacco. La Zumba è ballo, divertimento, fitness, erodica, allenamento cardiovascolare, lo stare insieme. No! Alegria! Energia! La Zumba. La Zumba. La Zumba. EV Multi coloring. Choco, choco